Un incontro positivo con i sindaci del territorio della Scolano e del Fermano, tanti punti concreti che somigliano a quelli che nei mesi sono stati chiesti in termini di semplificazione e accelerazione, questi gli obiettivi condivisi da tutti, una novità importante in termini anche di disponibilità a mettere mano agli strumenti del terremoto, con tutte le istituzioni come importante per poter ripartire, quindi riparte nella volontà di andare a costruire quegli strumenti che rispondono ai cittadini per dare tempi più stretti che quello che ci chiedono, una partecipazione delle istituzioni insieme perché per l'efficacia delle misure bisogna che tutti quanti porti il loro contributo.